Prima di cominciare con il video ci teneva a dirvi che sarò presente all'Etna Comics dal 31 maggio fino al 3 giugno 2018. Inoltre il 2 giugno alle ore 10 farò una conferenza che tratterà anime come passione ed ispirazione. Mi raccomando ragazzi partecipate in tanti, ce ne saranno delle belle. Inoltre ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti oppure direttamente su Telegram se sarete presenti in modo da poterci organizzare. Potremo vederci, fare una foto, stringerci la mano e tante altre cose. A breve sapremo la data d'uscita di Kingdom Hearts 3, precisamente alle 3. Quindi si presume che manchi poco al suo rilascio e finalmente dopo tanti anni potremo mettere mano al capolavoro di Casasquare. Quindi ragazzi io sono Feraz e quest'oggi andremo a vedere 8 cose, in realtà sono 5 probabili e 3 quasi improbabili, che voglio vedere in Kingdom Hearts 3. Quindi riguarderanno diversi aspetti del gameplay, mondi e robe varie. Sinceramente sulle storie non ho pretese, voglio solo una bella storia ben fatta. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di cominciare immediatamente. La prima cosa che vorrei è sicuramente la possibilità di riaffrontare i boss della storia e i boss dei vecchi Kingdom Hearts, magari al Colosseo o nella nuova struttura che sarà adibita allo scontro contro dei personaggi del gioco o comunque contro i vari nemici come ad esempio Heartless, Nations e Nessuno. Sinceramente sarà bello magari vedere pure delle interazioni come avveniva su Final Fantasy XIII 2 con i DLC, che prima dello scontro c'era una piccola cutscene, quindi non come le silhouette assenti che cominciava lo scontro e basta, ma magari sarebbe bello vedere un'interazione. Come so ora che rivede magari una copia digitale di, che vi posso dire, di Roxas e quindi dice Roxas ma cosa ci fai qui? Poi ad esempio capisce che è una copia digitale e decide di confrontare le sue abilità con quelle di Roxas ad esempio. Ma ci sono tantissimi spunti che potrebbero essere utilizzati. Quindi sì, sicuramente sarebbe bello riaffrontare magari un Sephiroth qualora non venisse riaggiunto come boss segreto o un Cloud ad esempio, una Eris, una Yuffie, una Tifa, anche un Noctis ad esempio, i Chocobros o magari Ardyn, ma anche se quello lo vedo più come boss segreto, come degno successore di Sephiroth. Una seconda cosa che voglio è molto collegata a quella dei boss, infatti vorrei dei boss segreti degni di questo nome. Non mi dispiacevano i boss degli altri Kingdom Hearts, ma vorrei qualcosa magari che sia più lungo da scoprire e da affrontare. Quindi non un semplice vai lì, affronti il boss, rip, no. Vorrei magari una storyline per queste boss battle. Ad esempio, Sora durante il viaggio in un mondo, a San Fransokyo, in Big Hero 6 ci saranno tanti ponti, magari Sora su un grande ponte, durante appunto un suo viaggio nel mondo di Big Hero 6, viene fermato e sfidato da Gilgamesh, che è arrivato nella dimensione di Kingdom Hearts, vuole ottenere un Cimelio, un'arma leggendaria, ovvero il Keyblade. Sora quindi magari potrebbe prenderla tranquillamente in modo amichevole e sfidare Gilgamesh, oppure semplicemente fargli provare il Keyblade. Qua Gilgamesh capirà che il Keyblade non lo può utilizzare, dato che lo possono utilizzare solamente per scelti, ma non si arrende e decide di affrontare lo stesso Sora, in uno scontro che magari potrà essere ripreso in più fasi. Magari nella prima visita affrontiamo Gilgamesh con delle armi più scarsucce, poi magari utilizza le sue leggendari armi in un secondo scontro o in un altro ponte, in un altro mondo, oppure sempre nel mondo di Big Hero 6, oppure potremmo affrontare poi un Gilgamesh con finalmente dei Keyblade, oppure delle riproduzioni, un po' tipo l'Excalipur che facevano di danno. Sarebbe una cosa molto interessante, potremmo vedere il continuo dello scontro tra Cloud e Sephiroth, potremmo vedere dei boss Marvel o Star Wars, che di certo si farebbero tanto bene a Kingdom Hearts 3, magari uno scontro dove potremmo ottenere un Keyblade Spada Laser, ad esempio. Come terza cosa vorrei la possibilità, ad un certo punto del gioco, di giocare nei panni o di avere in squadra gli altri Guardiani della Luce, quindi non giocare sempre e comunque con Sora, Paperino, Pippo e due compagni che ci assisteranno nei vari mondi, ma magari poter sostituire a Sora, oppure gli altri quattro compagni di quest'ultimo, proprio i Guerrieri della Luce, quindi magari andare in giro nei mondi con un team di Sora, Acqua, Terra, Ventus, Enrico, oppure Kairi ad esempio. Penso che sarebbe una cosa molto interessante, inoltre questo ci permetterebbe di continuare a giocare a Kingdom Hearts per tanto tempo, cercando magari di expare diversi personaggi, o di fare proprio delle missioni dedicate a determinati personaggi, quindi ad esempio una missione si attiva solamente se sei con Terra, e quindi Terra affronta una missione, ad esempio una, magari, missione con una storyline. Sarebbe molto interessante, sinceramente voglio vedere tanta interazione tra i personaggi e l'ambiente, cosa che comunque già abbiamo visto esserci, dai gameplay più recenti di Kingdom Hearts 3, e vorrei sicuramente avere tanti compagni selezionabili da poter portare con me durante la mia avventura. Come quarta cosa vorrei sicuramente i Chocobros, ovviamente parlo dei quattro protagonisti di Final Fantasy XV, quindi Noctis, Gladio, Ignis e Prompto, che potrebbero appunto essere dei boss o semplicemente dei compagni in un mondo, o dei compagni per delle missioni. Magari poi potremmo avere uno scontro finale contro Noctis, ottenere un Keyblade, o comunque l'abilità di utilizzare il Warp Strike, praticamente quella sorta di teletrasporto che utilizza Noctis, magari lanciando il Keyblade, anziché la spada motrice, ecco, sarebbe molto figo. Ora qua passiamo a tre cose extra, ovvero cose che per me sarebbero belle da vedere all'interno di Kingdom Hearts 3, ma che probabilmente, anzi, quasi sicuramente non succederanno. Come primo extra abbiamo un multiplayer online alla Comrades, non parlo di averlo già dal rilascio del gioco, ma magari di averlo dopo qualche mese. Ovviamente questo multiplayer, secondo me, dovrebbe avere un settings, magari alla Kingdom Hearts Unchained, e magari con la possibilità di usare dei personaggi diversi dal mondo di Kingdom Hearts, tra cui i Guardiani della Luce, i compagni dei vari mondi e alcuni Villain, ma soprattutto la possibilità di creare i nostri personaggi, magari dare delle armi diverse, il Keyblade, lo scettore di Paperino, il Gunblade, le lame di Xemnas, ad esempio. Ci sono tante altre cose che potrebbero essere messe come armi. Potrebbe venire fuori un gameplay e inoltre un multiplayer veramente molto interessante, che ci permetterà probabilmente di espandere la nostra esperienza di gioco per tanto tempo. Come secondo extra abbiamo il mondo di Midgar, ovvero la città di Final Fantasy VII, su Kingdom Hearts 3, oppure altri mondi a tema Final Fantasy, anche se sinceramente vorrei vedere proprio Midgar, perché potremmo vedere finalmente una storia di Final Fantasy, con magari Cloud e Sephiroth che continuano nel loro scontro, oppure che si alleano per affrontare una minaccia comune. Quindi magari potremmo avere Cloud e Sephiroth in squadra nello stesso momento? Quanto cazzo sarebbe bello? Probabilmente tutto questo non succederà, però beh, fantasticare un po' ci è concesso, no? Come terzo extra vorrei qualcosa che sicuramente per molti potrebbe essere inutile, anche se tutti quanti amiamo questo mondo. Parlo infatti, finalmente, delle isole del destino visitabili e giocabili, magari con la possibilità di fare missioni secondarie, di interagire con Tidus, Wakka e i vari personaggi, che magari nel tempo sono cresciuti appunto, come abbiamo visto in Kingdom Hearts 2, con selfie. Ma sarebbe veramente bello, appunto, visitare pure le altre isole, perché non è solo un'isola, dove ne sono tante isole, quindi magari ci potrebbe essere un'isola dove si gioca Blitzball, potrebbe esserci Jet, non mi ricordo mai come si pronuncia, ovvero il padre di Tidus che ci introduce al Blitzball e che magari ci fa da allenatori per fare magari dei tornei di Blitzball. Ragazzi, non poter immaginare le potenzialità delle isole del destino, che sicuramente sarebbero una location veramente molto bella per, appunto, passare il tempo lì. Cioè, ragazzi, dai, le isole del destino sono fatte troppo bene, sono un mondo fantastico. Siamo arrivati finalmente al quinto punto principale. Il quinto punto è qualcosa che probabilmente in tanti vorranno, ovvero tante missioni secondarie, anche autogenerate, quindi che magari ogni giorno ne abbiamo di uguali, nel senso che hanno lo stesso scopo, ma magari con bersagli diversi, come ad esempio le missioni di caccia, tipo sconfiggi Tot Heartless, sconfiggi Tot Nations, sconfiggi Tot Heartless di questa categoria, di questa specie, oppure affronta questo nemico che è presente solamente a tempo limitato. E questo sarebbe un modo molto interessante di aggiungere nemici affrontabili, come boss segreti. Si potrebbe fare di tutto, soprattutto vorrei comunque delle missioni che abbiano delle loro storyline, e quindi magari che potrebbero aumentare la longevità del gioco di tanto. E sarebbe bello appunto avere delle missioni poco ripetitive, ma molto divertenti. O comunque, vabbè, anche se ci fosse un po' di ripetizione, non sarà un problema, ma l'importante è la varietà di tipi di missione, ecco. E niente ragazzi, questo video riguardo a ciò che voglio in Kingdom Hearts 3 termina qua. Fatemi sapere anche voi se volete qualcosa di specifico in Kingdom Hearts 3, magari se non l'ho messo in questa lista, me lo potete tranquillamente commentare. Se siete n'hype per il rilascio, soprattutto per la conferenza 3 che si terrà l'11 giugno, o il 10 ora non ricordo, so che sarà molto tardi, però vorrei provare a streamarla, perché comunque sarebbe veramente molto figo commentare con voi la data d'uscita di Kingdom Hearts 3. Certo, verrei buttato fuori di casa per le urla che sicuramente caccerei, però dettagli. Vi ricordo che sarò presente all'Etna Comics dal 31 maggio al 3 giugno 2018, il 2 giugno alle 10 avrò una conferenza al Padiglione E1, vedrò la YouTube Valley che parlerà degli anime, ed inoltre ragazzi farò un piccolo contest, magari farò qualcosa di particolare, dove un fortunato vincitore potrà ottenere la mia maglietta, non essendo che mi toghi la maglietta e ve la do, nel senso che appunto sto facendo una maglietta Feraz in edizione limitata, e che quindi sarebbe molto bello regalarvela, magari l'autografo o vediamo cosa mi invento, ecco. Comunque ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatele e condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche che guardate video, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione per parlare con me. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io pubblico alcuni aggiornamenti riguardo al canale, principalmente su Instagram, metto delle storie, quando capiterà metterò pure qualche foto riguardo a Lettera Comics, e niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live, un saluto a Feraz, bella! A presto! A presto!